Ciao, ora vi farò vedere un altro gioco molto bello con le carte Allora, prima di fare questo gioco dovete prepararvi il mazzo Allora, ad esempio, prendete, cioè mettete per ultimo Cioè, no, scusate Allora, prendete, che ne sono ad esempio due E contate fino dall'inizio Uno e due Mettete la carta rigirata e coprite Poi fate dei falsi miscugli Non lo so, così, così Così, per finta sempre Ok E poi Fate Fate Ah, fate scegliere la carta Aspetta Poi Fate Aspetta, scusate, ho svegliato Allora, vi sistemate il mazzo Mettete all'ultimo delle carte Mettete il due e ritirato Poi Dite stop Stop Prendete la carta E Fate metterla Sopra il mazzo Dove c'è il due Mettete sopra Fate dei falsi miscugli E poi Quando andrete a fare così Rimarrà il due girato E gli chiedete Ma Questa è la carta Loro vi dicono di no Perché è impossibile Allora Dite Siccome c'è il due Ci sarà un buon dio Contate Uno Due E fate vedere La carta che avete scelto E' questa E' ok Grazie E Grazie